accenno sulla super sport 300 il vostro mark garzia si è ripreso la leadership del campionato però ecco eccolo eccolo e vede già i 25 io purtroppo ragazzi mi sono giocato tonka wakami 25 points 25 points io mi sono giocato tonka wakami che alla seconda gara si è infortunato e ha saltato questa quindi sto rovinato ragazzi sto veramente rovinato non so se rientra tra l'altro 25 poi ride con un pazzo taranto a conosco bene la tua zona sai un sacco di volte vabbè raga vogliamo fare solo st ultima cosa leggo al volo le liste di ognuno di noi così ma ci vogliamo iniziasse impegnativa questa cosa sto per dire ma perché 25 points perché invece non ci prendiamo i punti di ogni singola gara quindi ogni ogni weekend no perché non andrà dice a fine campionato si sommano tutti i punti che aveva adesso domani oggi pomeriggio non va prende tutti i risultati di si è un po un impegno però lo possiamo fare il martedì qui ok per far vedere chi è una classifica però sempre con il secondo da una versione gioco non iniziamo a mettere in mezzo il calcio è qua è vietato no anche perché guarda c'è non parliamo di pronostici questo discorso allora diciamo vabbè quindi l'idea ci sta qui ci provano sommare i punti in campionato di ogni pilota che abbiamo anche il formolo 1 il supertatto è pari per quanti che dici fai mai sentito oltre 25 points no ma se usiamo questa cosa che ha detto questa idea di riccardo non hai sentito non so che non hai sentito proprio per questo bannatelo c'è ragione bannato spartano stavo dicendo di prendere ogni weekend di gara che noi lo facciamo il martedì qua quindi senza che nessuno si prende il fanta moto gp sì però noi lo facciamo il fanta motori cioè ci andiamo a prendere ogni gara i punti veri che vengono assegnati alla gara e così abbiamo una classifica tra noi tre che si aggiorna ogni weekend idea good idea però rimane formula 1 rimane diviso 2 il secondo e diviso 3 il terzo per ogni gara mi sta bene ok ci prendiamo mezzo punteggio assegnato della gara del secondo che chiaramente noi lo facciamo così così ci abbiamo ogni volta che sia giocata si potrebbe fare direttamente a fine campionato perché alla fine così però non abbiamo aggiornato da smettere trenti fa e poi se glieli scarichiamo noi che poi mi voglio occupare in una breve storia triste stamattina è detto che hai detto che hai detto che hai detto ragazzi siamo arrivati alle 15 e 03 io penso che chi ce l'ho ti ci metti te si si faccio che faccio il più preciso era bello e non so che lui lui bara si mette 30 e poi andrebbe verificato e te mi fido ragazzi lollo grazie lollo vince di alta qualità meravigliosa grazie grazie altissima altissima qualità va bene ragazzi allora sul discorso prostici vi aggiorniamo martedì prossimo esatto così vediamo la classifica in tempo reale come come aggiornata ciao ciao ciao